Ballando con le stelle. Retroscena di Millie Carlucci. Lavoro complesso. Millie Carlucci sul cast di Ballando con le stelle 2021 ammette. Lavoro complesso. Mancano poche ore per Ballando con le stelle 2021 e il pubblico di Rai 1 non vede l'ora di vedere i concorrenti all'opera. In attesa di Ballando con le stelle la padrona di casa. Millie Carlucci. Ha svelato alcune curiosità sulle pagine di Tele+. In particolare sulla scelta del cast di Ballando con le stelle 2021 la conduttrice ha raccontato. Alcuni concorrenti li chiamo io. Altri si propongono o ci vengono proposti. E, un lavoro complesso. Le modalità sono le più varie. E, ancora indecisa. Invece. Millie Carlucci sul look da sfoggiare stasera Ballando con le stelle e nelle prossime puntate. La conduttrice ammette di avere una certa nostalgia per gli abiti da sirena che, tuttavia, la fanno sentire scomoda durante la diretta. Per questo la Carlucci sta pensando di optare per i pantaloni e, solo qualche volta, di cedere al fascino degli abiti a sirena. Ballando con le stelle 2021 coppie, Millie Carlucci chiarisce. Facciamo attenzione anche al carattere. Nel corso dell'intervista su tele più Millie Carlucci risponde a diverse curiosità su Ballando con le stelle e sul lavoro fatto dietro le quinte. In particolare, sulle coppie di Ballando con le stelle 2021, la conduttrice spiega i criteri con le quali vengono formate. Si parte da altezza e aspetto fisico per creare coppie armoniche. Ma anche l'età ha una certa importanza perché, come spiega Millie Carlucci, non puoi mettere un maestro giovane con un personaggio più grande. Altrimenti sembrerebbe il nipote. La conduttrice spiega poi che vengono fatti degli incontri preliminari per capire bene i personaggi. E aggiunge. Facciamo attenzione anche al carattere. Cerchiamo di fare l'abbinamento giusto in modo che anche da questo punto di vista risulti una coppia armonica. Ballando con le stelle, Millie Carlucci rivela. Albano, Arisa e Fabio Galante mi avevano detto no. Infine, Millie Carlucci fa una rivelazione su tre dei concorrenti di Ballando con le stelle 2021. Ovvero Albano, Arisa e Fabio Galante. Su di loro la conduttrice dice Sono arrivate a compimento alcune storie iniziate tanti anni fa. Ho ricevuto dei no per tanto tempo e ora mi hanno detto sì. Li inseguivo da moltissimo tempo. Intanto un membro della giuria, Caroline Smith, ha fatto una confessione inaspettata. Grazie. Grazie. Grazie.